La prima edizione della 24 ore di Le Mans fu organizzata nel 1923 e la corsa divenne subito un ambito obiettivo per le case di auto. Le immagini si riferiscono all'edizione del 1949 vinta da Luigi Chinetti che lasciò la guida della sua Ferrari all'inglese Lord Selstam solo per un'ora. Anche all'inizio degli anni 50 la Mille Miglia continuò a riscuotere successo. Nel 1951 tra ben 325 equipaggi al via fu Luigi Villoresi in coppia con Cassani ad aggiudicarsi la corsa con una Ferrari Berlinetta 12 cilindri carrozzata da Vignale. Anche all'inizio degli anni 50 la Mille Miglia